Nuovo, moderno, avveniristico, quasi di frontiera. È uno spazio diverso quello del Teatro Petruzzelli di Bari, durante la prima delle tre serate di Rosso di Sera, evento clou della prima edizione del Festival Frontiere alla prima volta, organizzato da Apulia Film Commission insieme all'Università e al Comune di Bari e alla Fondazione Petruzzelli. Il palco diventa quasi un set televisivo, di quelle trasmissioni che ci piacerebbe tanto vedere in prima serata, ma che sui nostri canali difficilmente si trovano, a partire dalle riflessioni sulla modernità e sul nuovo che insegue se stesso, del sociologo Franco Cassano, padrone del palcoscenico e ipnotizzatore della platea. Poi via, secondo atto, l'esibizione dei virtuosi della Scala di Milano, protagonisti Mozart e Rossini, che ricordiamolo, per il loro tempo, sono stati la novità travolgente in musica. Quindi la disarmante letizia dell'etnologo francese Marco G, forse il più grande al mondo nel suo campo, a colloquio con colui che ha cucito la serata del Petruzzelli, Gino Castaldo, giornalista e critico musicale di Repubblica. E infine Sergio Rubini, a dare un tocco felliniano alla serata del Politeama. Otto provini cinematografici, quattro ragazzi e quattro ragazze, fatti direttamente sul palco. Improvvisazione pura, novità, spontaneità, semplicemente quello di cui c'è bisogno.